Ben ritrovati con il TG Oggi News. Apriamo con la notizia di un incidente stradale che si è verificato sulla strada tra Olevano e Battipaglia. Tre feriti in codice rosso e purtroppo c'è stata anche una vittima. Vediamo il servizio. Un gravissimo incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 29. La strada provinciale che da Battipaglia conduce a Olevano sul Tusciano. Il bilancio dello schianto è avvenuto questa mattina tra due auto, una Lancia Y e una Fiat 500 e di un morto e tre feriti ricoverati in codice rosso. La vittima è un uomo di 75 anni di Olevano sul Tusciano, Giovanni Bruno, ex dipendente della Sita, che viaggiava a bordo di una Fiat 500 di colore rosso guidata dal figlio, un carabiniere fuori servizio. Feriti anche il conducente e il passeggero a bordo della Lancia Y di colore bianco trasportati d'urgenza in ospedale. La strada è stata chiusa per diverse ore al traffico veicolare per consentire i rilievi dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco, del distaccamento di Eboli, la polizia municipale e i carabinieri. L'impatto tra le due vetture sarebbe stato molto violento. La dinamica è tutta ancora da chiarire, ma probabilmente causata anche dal fondo stradale resoviscito dalla pioggia. Sul posto per soccorrere le persone ferite, tre ambulanze del 118, Croce Rossa Giffoni, Vopi Eboli e Croce Verde di Battipaglia. Purtroppo per il 75enne Giovanni Bruno non c'è stato nulla da fare e è deceduto sul colpo. L'incidente di questa mattina è avvenuto nello stesso tratto stradale della strada provinciale 29, dove circa due mesi fa in un frontale è morto il giovane 27enne Davide Iannone, in uno schianto che aveva coinvolto tre veicoli dove rimase ferita anche una ragazza di Agropoli. Cronaca, si percorre l'ipotesi di un atto intimidatorio per risalire all'episodio che ha provocato nella notte appena trascorsa danni ad un bar. Indagini in corso da parte dei carabinieri, si parla della zona di Eboli. Un ordigno di carta è stato fatto esplodere stanotte dinanzi alla saracinesca del Barrizi in Viale Amendola ad Eboli, ma tutto fa pensare che si tratti di un atto intimidatorio. L'esplosione è avvenuta intorno alle due, creando grande paura tra i residenti risvegliati nel cuore della notte. Danni ingenti all'attività commerciale, alla saracinesca del bar, così come a sedie e tavolini posti dinanzi al bar per lo scoppio dell'ordigno sono stati scaraventati nelle vicinanze, dove sono stati registrati danni anche alle vetrine di altri negozi, così come al portone del Palazzo dei Martino e l'illuminazione esterna di una banca. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area, avviando tutti i rilievi utili per il prosieguo delle indagini. Fondamentali per gli investigatori le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, dove pare siano stati già attentamente analizzati alcuni frame di un video, dove è stato ripreso un uomo con il volto travisato da cappellino, che posiziona l'ordigno dinanzi al bar, una posizione tutta da verificare. I carabinieri di Eboli, che indagano sull'episodio che ha scosso la comunità, non escludono alcuna pista, un episodio criminale, quello al Barriz, che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi, che ha sollevato tanti interrogativi, che ha turbato non solo il sonno degli ebolitani risvegliati nella notte dal forte boato, ma soprattutto la percezione di sicurezza dei cittadini. Da chiarire se l'esplosione della bomba carta sia riconducibile a fatti legati alla criminalità. Su questo aspetto attendiamo l'esito delle indagini portate avanti dai militari dell'arma. Così il sindaco di Eboli, Mario Conte, che si è recato sul posto. Ma qui è un fatto molto grave, sicuramente, che si è verificato stanotte, e su cui la compagnia dei carabinieri di Eboli, insieme al nucleo operativo della caserma di Eboli, stanno indagando e stanno facendo gli accertamenti che è necessario fare. Ovviamente bisogna alzare il livello di guardia, è un episodio questo isolato, che non accadevano fatti del genere da deboli da diversi anni, da moltissimi anni, quindi dovremmo capire che cosa è avvenuto qui. I danni non sono rilevanti all'attività, più all'esterno, alla sarecinesca, alla vetrina. La cosa preoccupante, grave, è la sfrontatezza con cui questo gesto è stato compiuto, perché è avvenuto ad un orario dove era possibile addirittura che qualcuno fosse a piedi o passasse con un'autovettura, e quindi avrebbe potuto arrecare danni anche ad altre persone, a terzi che stavano passando di qui. Quindi noi dobbiamo essere, come dire, vigili rispetto a questi fenomeni. Speriamo che sia una cosa, mi auguro, ma io ne sono anche certo, che è un fatto isolato, un fatto isolato di criminalità in questo momento, perché sicuramente è un atto criminale. Ora, sicuramente nei prossimi giorni, potremmo capire meglio la dinamica, ma anche le ragioni, le motivazioni, ecco il movente di questo attentato, di questo grave gesto nei confronti di un'attività commerciale. Mi hanno riferito a poc'anzi, insomma, che i gestori di questa attività non hanno ricevuto minacce o richieste, e quindi sono molto increduli per questa vicenda. Con un paio di forbici e con una grossa spranga di ferro aggredi due imprenditori al casello autostradale, provocando lesioni e danneggiando l'auto. Per quanto avvenuto alla barriera autostradale di Mercato San Severino della Trenta, gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord hanno tratto in arresto una persona. Vediamo. Con un paio di forbici e una grossa spranga di ferro aggredi due imprenditori al casello autostradale della 3 di Mercato San Severino, provocando lesioni e danneggiando l'auto. La Polizia Stradale di Salerno ha identificato ed arrestato l'uomo, è indagato per rapina, lesioni, danneggiamento e possesso di armi, reati e aggravati dall'aver agito per futili motivi e con l'utilizzo delle armi. I fatti risalgono allo scorso mese di giugno, quando il soggetto alla barriera autostradale di Mercato San Severino della Trenta, sotto la minaccia di una spranga e forbici, rapinò e aggredì due imprenditori. Dopo mesi di indagini, nei suoi confronti è stata eseguita un'ordinanza del GIP del Nocera Inferiore che applica la misura cautelare degli arresti domiciliari. L'indagine della Procura Nocerina, diretta dal Procuratore della Repubblica Antonio Centore, è nata dopo che i due imprenditori avevano presentato la denuncia nel giugno scorso raccontando di essere stati aggrediti. Quell'aggressione, per chi indaga, non aveva avuto conseguenze più gravi solo grazie alla pronta reazione delle due vittime, che erano riuscite a sottrarsi alla furia dell'aggressore, il quale, prima di andar via, si era impossessato anche delle chiavi della loro auto e di altri oggetti. Gli investigatori, grazie a fotografie acquisite, alle analisi documentali e all'escussione delle parti, sono riusciti a ricostruire il quadro probatorio che ha poi portato all'emissione del provvedimento cautelare che pone agli arresti domiciliari l'uomo. Parliamo dell'inaugurazione delle luci d'artista e del piano sicurezza che ne deriva in vista dello start del prossimo venerdì alle ore 17. Verrà potenziata anche la sicurezza attraverso la presenza dell'esercito che sarà impegnato in servizi dinamici di vigilanza in tutta la città di Salerno, previsti i potenziamenti dei servizi di vigilanza delle forze dell'ordine in tutta la provincia contro i reati predatori. Vediamo. Situazioni ordinarie come gestire meglio l'afflusso nel centro storico di Salerno, Villa Comunale, Piazza Flavio Gioia, ma anche eventi straordinari e differenti rispetto allo scorso anno. Si è concentrato su questi aspetti il Comitato Straordinario per l'Ordine e la Sicurezza dedicato a luci d'artista all'accensione. È in programma le 17 di venerdì 29 novembre. Oggi, come di consueto, il prefetto ha riunito tutti gli esponenti delle forze dell'ordine ed interessati al piano di sicurezza al torno al suo savolo. Tra le situazioni che si presentano come nuove rispetto allo scorso anno, il cantiere che è tuttora aperto in corso Vittorio Emanuele, che sarà o chiuso o comunque messo in sicurezza con un transito adeguato, il venir meno del parcheggio di Foceirno e la necessità conseguenziale di potenziare il piano parcheggi in altre zone e i collegamenti con queste aree che sono fuori città. La riunione ha affrontato anche diverse questioni legate alla sicurezza. Su questo fronte la novità più importante annunciata dal prefetto sono i servizi dinamici di vigilanza che vedrà impegnato l'esercito. E' stato rafforzato il servizio, cioè sono state orientate le pattuglie soprattutto in quelle zone, in quegli orari dove, nei quali c'è stata una maggiore tendenza, si sono registrati più episodi. Non basta però perché abbiamo proprio stamattina messo a punto un ulteriore piano che prevede un impiego diverso delle unità che sono messe a disposizione dall'esercito nell'operazione di strade sicure. Quindi non sarà più un impiego statico dedicato esclusivamente all'area stazione ma ci saranno più punti della città che saranno presidiati in modo statico attraverso una vigilanza dinamica dedicata anche dalle unità dell'esercito che sono impegnate nelle operazioni di strade sicure. Abbiamo nelle ultime settimane finanziato anche progetti di videosorveglianza per il Comune di Salerno, ne parliamo già con 300.000 euro che vanno a incrementare e intensificare le reti che sono già esistenti e abbiamo un gruppo di lavoro che è impegnato nell'individuare progettualità e quindi nel destinare ulteriori 500.000 euro per altri Comuni che sono interessati da situazioni di incremento della criminalità e dei reati commessi. È stato oltretutto potenziato il servizio lungo le direttrici di accesso alla provincia andando a interessare anche le reti autostradali. Questo noi riteniamo che possa essere una risposta complessiva in grado di intervenire meglio su questo allarme che si è creato in città e in altre zone. Abbiamo fatto anche riunioni di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dedicate alla Valle dell'Irno perché leggevo che anche lì c'è un po' di preoccupazione legata proprio all'aumento dei furti e abbiamo riunito tutti i sindaci della Valle dell'Irno per concordare con loro delle linee di azione per migliorare il pattugliamento di quelle zone. In Italia aumenta la Tari del 2,3%, Salerno invece fa registrare una diminuzione dello stesso dato, un risultato doppio di grande valore che consente alla città di uscire dalla classifica dei 10 capologhi italiani dove si paga la Tari più alta ed entrare invece in quella dove si è registrata una delle variazioni più sensibili per abbassare la tariffa sui rifiuti e quanto emerge dall'ultimo rapporto diffuso dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva. Una media di 440 euro a famiglia con una diminuzione rispetto allo scorso anno del 2,5%. Così con queste cifre Salerno esce fuori dalla classifica dei 10 capologhi italiani dove si paga la Tari più alta ed entra anzi in quella dove si è registrata una delle variazioni più alte che consentono di abbassare la tariffa sui rifiuti e quanto emerge dall'ultimo rapporto diffuso dall'osservatorio prezzi e tariffe di cittadinanza attiva. Un risultato che gratifica l'impegno e gli sforzi fatti per aumentare le percentuali di raccolta differenziata, giunta al 74%, ma anche un doppio risultato come lo ha definito l'assessore all'ambiente del comune di Salerno Massimiliano Natella perché raggiunto in un contesto in cui in Italia ben 84 capoluoghi di provincia sono stati costretti ad aumentare la Tari. Aspettavamo un dato importante anche perché all'inizio dell'anno avevamo appreso che la Tari sarebbe stato un tributo in aumento in alcune città. Emerge ovviamente un dato significativo soprattutto per la città di Salerno nel sud perché purtroppo il sud su questo tema ha delle punte invece di non civiltà. La città di Salerno ha fatto dei passi avanti, noi siamo contenti che i nostri concittadini hanno seguito le indicazioni, hanno in qualche modo condiviso una campagna che noi abbiamo avviato da tempo e non ci fermeremo qui. Abbiamo la necessità di migliorare ulteriormente i servizi, di fare in modo che il tributo possa abbassarsi ancora di più e investire le risorse che noi riusciamo a recuperare per questo tributo per migliorare la qualità della vita, la qualità delle strutture per migliorare l'ambiente che ci circonda e quindi avremo tanto da fare nei prossimi periodi. Sono 5.659 i tumori registrati in un anno in provincia di Salerno. L'incidenza maggiore nell'area nord del territorio, in particolare nell'agronocerino, mentre i dati più bassi sono registrati nelle aree meno urbanizzate come il Cilento. Sono alcuni dei dati emersi ieri nel corso della presentazione del primo registro dei tumori della Salerno presentato nel corso di un appuntamento all'Ordine dei Medici. Vediamo. L'incidenza dei tumori nella provincia di Salerno si presenta in calo rispetto alla media del mezzogiorno ma emergono preoccupazioni per l'area nord dove si registra un eccesso di rischio rispetto ai dati attesi per quasi tutte le neoplasie più diffuse. Ad evidenziare questo quadro è stato il primo rapporto sui tumori dell'asola di Salerno presentato ieri pomeriggio presso la sede dell'Ordine dei Medici di Salerno che mostra al contempo una situazione confortante per il Cilento. Sono 5.659 i tumori registrati in un anno nella provincia di Salerno. L'incidenza maggiore si registra nell'area nord del territorio, in particolare nell'agronocerino, mentre i dati più bassi si sono registrati nelle aree meno urbanizzate come il Cilento. Emerge sicuramente un quadro complessivamente positivo per la nostra provincia con dei valori, dei tassi che sono inferiori per entrambi i generi rispetto al Sud Italia. Questo come primo dato. Emerge però, diciamo, nell'ambito della stessa provincia delle differenze territoriali tra le aree quindi che sono, diciamo, settentrionali della provincia rispetto alle aree del Cilento che sono aree con minore incidenza. I tumori più frequenti, possiamo dire, sono nei maschi abbiamo a primo posto il polmone, abbiamo la prostata secondo il polmone, invece nelle donne, quindi primo posto abbiamo la mammella secondo il colon retto. Beh, assolutamente, le campagne di screening comunque sono nelle nostre corde ormai da anni. Questa mappatura ci aiuta ben a capire, a definire le aree, le tipologie, le prevalenze, le diversità anche tra le varie zone della nostra realtà aziendale, che come sapete è una delle province più grandi d'Italia, e delle peculiarità e delle diversità importanti, per cui avere comunque le differenziazioni sia dal punto di vista delle patologie, sia dal punto di vista della loro incidenza, sia dal punto di vista della loro localizzazione è inevitabilmente un grande aiuto. Possiamo dare dei compiti mirati ai nostri responsabili, capire come agire, dove spingere, su che tipologia di setting andare a essere più forti, incidere di più. E' quindi uno strumento di lavoro e anche uno strumento di conoscenza e trasparenza per la popolazione. Grazie a tutti. Salerno. Quando torno a Salerno mi sento un po' a casa mia, quindi per me è un motivo di orgoglio, di grande gioia aver rappresentato Salerno in questa serie. Salerno ne uscirà fuori bellissima, ci sarà un'immagine della città stupenda, quindi sarà un grandissimo spot per Salerno, perché sono quattro serate, insomma prima serata, cento minuti, e quindi siamo tutti orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto. Con queste parole Massimiliano Gallo ha commentato la sua partecipazione alla seconda serie di Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso, presentata in anteprima ieri con la visione del primo episodio al Teatro Agusseo di Salerno, presente tutto il cast al fianco dell'attore napoletano, che è il protagonista principale della fiction tv. La proiezione alla quale ha partecipato anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, è stata preceduta da una conferenza stampa con il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. La trasformazione urbana deve continuare con il recupero del fronte di mare che stiamo finanziando, partiamo fra poco con il nuovo ospedale Ruggi di Aradona, 400 milioni di euro di investimenti, partiamo, la gara si conclude la prossima settimana con i lavori per rifare lo stadio Arechi e il campo Volpe, recuperare il palazzetto dello sport, cioè proseguiamo in un lavoro di trasformazione urbana che a Salerno ha avuto caratteristiche uniche in Italia. Ovviamente poi dobbiamo essere bravi ad essere all'altezza di una città turistica. Il fatto di aver fatto decollare l'aeroporto di Salerno-Ponte Cagnano è un'altra occasione straordinaria, ma è un altro miracolo che abbiamo fatto e che non avremmo fatto se non avessimo avuto il governo della regione Campania, tanto per essere chiari. Allora, si creano opportunità importanti di sviluppo per le giovani generazioni, di promozione di un'intera economia, oltre che ovviamente spettacoli di grande bellezza che siamo realizzati. E allora, seconda parte del nostro TGOG News, andiamo a Cava, buone notizie per i pazienti che afferiscono all'ospedale Santa Maria dell'Olmo, dove dal prossimo anno sarà nuovamente attivo l'ambulatorio di radiologia dell'ospedale Metelliano. Buone nuove per l'ospedale Santa Maria in Coronata dell'Olmo di Cava dei Tirreni. A partire da gennaio 2025, l'ambulatorio di radiologia sarà attivo anche per pazienti esterni, che potranno eseguire i vari esami di cui necessitano tramite una prenotazione al CUP. L'esternalizzazione degli esami radiologici rientra in un quadro di efficientamento dei servizi offerti ai pazienti, con la riduzione dei tempi di attesa e la presenza di apparecchiature di qualità e della professionalità di tecnici e specialisti. Dal primo gennaio l'ambulatorio di radiologia sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 10 e potrà eseguire TAC del torace ed ecografie di vario tipo, tra cui quelle all'addome, seno, tiroide e collo, trattorinario ecc. Per usufruire di tale servizio fondamentale è la prenotazione dell'esame da effettuare al centro unico per le prenotazioni, previa impegnativa del medico di base. Un'ottima notizia per il nosocomio metelliano, alla quale, secondo alcune indiscrezioni, nei prossimi giorni potrebbe aggiungersene un'altra relativa all'apertura di un nuovo reparto, quello di oculistica, che sembrerebbe ormai imminente. Nello specifico si tratta della divisione di oculistica universitaria afferente al reparto dell'azienda ospedaliera e universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. E dobbiamo dare un'occhiata alla pagina degli appuntamenti. Cineforum al Cinemateatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di Mario Spinocchio Fuori scuola tra gli spettacoli alle ore 17, alle 19.30 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. E allora è nato un cambiamento anche del meteo in queste ore, facciamo il punto e poi dopo la pubblicità parliamo di calcio in particolare. In collaborazione con De Filippis Pneumatici, centro driver Pirelli. Vendita e assistenza pneumatici per auto, moto, scooter, trasporto leggero e agricoltura. Da 70 anni, leader a Salerno. Ci trovate in via delle Calabrie 93 e in via Ricci 23. 2000 metri quadri di servizi ad alta tecnologia, ecolibratura e convergenza laser, assetto ruote con nuova tecnologia 3D. Basta scelta di cerchi in lega. Esclusivista a Salerno di tutti i marchi moto. Concessionario ufficiale Pirelli, Metzeler, Bridgestone, Firestone, Siberling, Dunlop, Goodyear, Yokohama, Michelin e tanti altri. Da noi troverete scelta, cortesia e affidabilità. De Filippis Pneumatici, il passato, il presente, il futuro. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, alternanza di sole e nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Ci occupiamo ora di sport, della Seretana in particolare. Dopo la seduta pomeridiana allo Stagio Rechi, la squadra granata entrerà da domani nelle ore di immediata vigilia del match di sabato col Sassuolo. Ieri è tornato in gruppo Iarosischi. Vanno ancora verificate invece le condizioni di Sepe. Domani, giornata decisiva per capire se il portiere sarà o meno disponibile per il match del Mapa e Stedium. Dopo la seduta pomeridiana allo Stagio Rechi, la Seretana entrerà da domani nelle ore di immediata vigilia della gara col Sassuolo. Ieri è tornato in gruppo Pavel Iarosischi, candidato a giocare da centrale di sinistra nella difesa 3 che con l'Antonio in mente di presentare al Mapa e Stedium. Il Polacqua ha smaltito la contusione alla caviglia e sarà titolare sabato. Domani, giornata cruciale per Gigi Sepe. Il portiere ha dovuto forzare i tempi per giocare a Cosenza vista la scolifica di Ciorillo, ma poi ha ripreso il percorso di recupero e domani capirà se già sabato potrà tornare in campo. A proposito di portieri, si registra la Diori Salvati che ha firmato con la Roma City, società militante in Serie D, dove ritrova l'ex trainer della primavera Granata Boccolini. Iaro Cesepe scioglierà domani le riserve, Tonghi invece spera di esserci per la gara con la Carrarese. Per lui non ci sono lesioni ma il recupero ha richiesto tempo dal 29 ottobre, considerando che salterà anche la gara di sabato prossimo, l'ex UE potrebbe rientrare in campo all'inizio di dicembre ancora in boxe e torneranno sicuramente dopo la prossima partita. L'ex Pisa potrebbe esserci già con la Carrarese, l'ex Spezia resta da valutare. Intanto dopo Vodarcic e Stojano ci ha atteso Rustic che è stato giusto di risere su impegni con l'Australia entrando nella ripresa della gara esterna col Barain finita 2-2. Domani l'ex Verona terrà testato da Gualantuono che l'orolerà per la panchina. A Reggio Emilia sabato Amatucci, Soriano e Teio saranno titolari. Rena Delaide potrà dare un apporto in corso d'opera. In attacco insieme a Verde uno tra Simi e Vodarcic sulle corsie laterali spazio a Ghidio Nengio. Venerdì rifinitura e conferenza stampa di Gualantuono prima della partenza per Reggio Emilia dove il grande ex raggia Marco Ferrari per anni bandiera nero-verde ed ora califo della difesa granata in cui cercano spazio. Ruggeri e Veltaus l'olandese dovrà convincere anche in ottica mercato di gennaio mentre nei prossimi giorni potrebbe essere più chiaro il futuro di Valencia che sarà sicuramente lontano da Salerno. E da domani alle 10 via la prevendita dei biglietti per Saleritana Carrarese in programma il primo dicembre allo Stato di Arichi alle ore 17.15 dopo la gara di Reggio Emilia infatti la sera è in attesa da ben sei gare nel mese di dicembre che ha tutto per essere considerato un mese decisivo per la classifica ma anche per il mercato. Vediamo. Sabato la trasferta sul campo del Sassuolo a Reggio Emilia segnerà il ritorno in campo dopo la sosta e farà da preludio ad un dicembre molto intenso. Nel mese natalizio la Salerno sarà impegnata in sei gare che avranno un peso determinante per la classifica ed orienteranno anche umori e strategie in vista del mercato. Si comincerà il primo dicembre in casa con la Carrarese dell'Ex Capezzi alle ore 17.15 poi trasferta il successivo sabato 7 dicembre in quel di Modena con fischio inizio alle 15.00 Domenica 15 dicembre sempre alle 17.15 derby interno con la US Sabia dell'ex maestro il successivo venerdì 20 dicembre alle 20.30 gara prenatalizia sempre in casa per il Granata contro il Brescia a Santo Stefano la trasferta sul campo del Crozzino nelle ore 15 e domenica 29 dicembre sempre alle 15 ci sarà l'ultimo match dell'anno che si disputerà al Ceravolo in casa del Catanzaro sei gare in meno di un mese che si svolgeranno in rapida successione dopo la difficile trasferta di sabato in Emilia per affrontare il sassuolo di grosso arbitro Crozzini di Siena la sanità andrà a farsi trovare pronta e sotto questo aspetto sarà importante riuscire ad alzare il livello delle prestazioni anche per quanto riguarda l'intensità sarà altresi importante riuscire a recuperare gli infortunati per avere rotazioni più ampie fare punti consolidare la classifica e poi tirare le somme per arrivare al mercato di Gennaio con le idee chiare qui chiaramente il discorso tecnico si mescola con i rivolti societari perché se ci saranno vincoli e paletti come in estate sarà difficile rinforzare la rosa era questa l'ultima notizia del nostro TG Oggi News grazie come sempre per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni risentirci vuoi rivedere questo programma? visita il nostro sito tvogisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand e clicca su